Una conferenza stampa oggi in Sala Coppola per presentare un ordine del giorno che verrà proposto dal consigliere di articolo 4 Giuseppe Catalano al civico consesso catanese. La proposta è quella di istituire la figura dell'autista soccorritore che ad oggi non viene considerato un operatore sanitario a tutti gli effetti. Catalano infatti svolge questa professione al di fuori dell'attività politica e si è fatto portavoce delle richieste dei colleghi. Attualmente nella normativa nazionale c'è un vero e proprio buco a riguardo che permette alle varie regioni di organizzarsi come meglio credono con disparità nel percorso di formazione ma anche nel trattamento economico dei lavoratori che in alcuni casi sono considerati alla stregua di volontari, ricevono un semplice rimborso spese e non sono coperti da assicurazione. Quindi abbiamo degli standard qualitativi che non vengono uniformati in tutto il territorio nazionale, quindi ci sono delle regioni dove l'autista soccorritore è formato, interviene con competenza e professionalità e magari altre regioni dove vengono utilizzati dei volontari che hanno fatto semplicemente un corso di primo soccorso. Anche l'Europa impone all'Italia di adeguarsi alle altre nazioni, addirittura a breve partirà il 112, il numero europeo dell'emergenza e non ci possiamo fare trovare impreparati davanti a questo nuovo evento. Già dal 2013 Stefano Casabianca, un autista soccorritore catanese, lotta per ottenere il riconoscimento della figura professionale presentando petizioni agli organi europei e nazionali. Nel 2013 ho presentato quattro petizioni, di cui una online sul portale change.org, una al Parlamento europeo che sarà dichiarata ricevibile, quindi materia di competenza del Parlamento europeo e due, una alla Camera e deputati e una al Senato della Repubblica. Tutti questi enti hanno risposto con esito positivo, accogliendo l'oggetto della materia e in questo momento sono in studio presso le varie commissioni. L'idea è quella di partire da Catania e coinvolgere quanti più comuni possibili, in modo da riuscire a far pressioni sul governo nazionale. Presenta all'incontro anche il deputato del PD a Lars, Luca Sanmartino, che si farà portavoce della mozione anche al Parlamento siciliano. L'impegno sia dei consigli comunali, partiamo dalla città di Catania, ma lo faremo anche in altri consigli comunali della provincia e non soltanto, è quello di sollecitare le amministrazioni, quindi noi, il governo regionale, attraverso un organo di rappresentanza che è il Parlamento siciliano, affinché in un accordo Stato-Regione si possa finalmente dare dignità a quella che è la figura specialistica appunto del provisto sul portale. Grazie.